ciao ecco cosa è uscito al test 3 praticamente tutto è impastato ha fatto qua qua ha fatto il primo giro e poi l'ha costruita penso che abbia perso il passo da una parte come si vede sollevata ha impiastricciato tutto questo pezzo penso che doveva essere alto diversi millimetri invece l'ha fatto molto 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 sottile adesso provo provo a staccarlo per farvi vedere cosa succede si stacca con facilità questo è quanto testata con un biglietto da visita a pizzeria 050 proverò a rifare tutto con un foglio più vicino